Gentili telespettatori, buona giornata. Dopo il via libera definitivo alla Commissione dell'Unione Europea guidata da Ursula von der Leyen, sentite un po', all'interno dell'aula dell'Europarlamento di Strasburgo hanno intonato Bella Ciao, il canto partigiano per antonomasia. E lo hanno cantato in perfetto italiano, quindi la conoscono benissimo. Sette dei nuovi commissari di area socialista, tra cui il titolare degli affari economici, il nostro caro Paolo Gentiloni, hanno pensato di festeggiare così l'avvio della nuova esperienza di governo, con un momento goliardico, durante una foto opportunity, limitata agli esponenti del loro gruppo, dopo quella di ritto, con l'intera squadra. E cantano, se avete visto il video, cantano entusiasti, quasi come se fossero con un fiasco, no? Cantano entusiasti. Quello più allegro di tutti è Franz Timmermans, che dalla von der Leyen è il vicepresidente esecutivo con delega alla Green Deal europeo. Poi c'è il maltese Ellen Daly, la commissaria delle uguaglianze, la portoghese Elisa Ferreia, commissaria per la coesione e le riforme. Nessuno dei presenti si sottrae e battono le mani cantando Bella Ciao, compreso Gentiloni col suo ciuffo che cantava Bella Ciao. Il video diffuso dalla presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, con il titolo Unione Sovietica Europea. Solo io reputo scandaloso questo ridicolo teatrino da parte delle più alte istituzioni europee, si chiede l'esponente della destra italiana. Non hanno nulla di più importante di cui occuparsi? Beh, sinceramente è tra lo squallido, il ridicolo, il grottesco e il teatrino, perché... Vabbè, attenzione che il canto Bella Ciao è un canto ormai diventato internazionale, che significa resistenza sotto... la resistenza contro stati totalitari. Quindi che si instaura questo nuovo governo europeo e cantano Bella Ciao è veramente una cretinata di calattere globale. Cioè, ma una commissione europea, l'Europa, formata da tutti i stati democratici, parlamentari, ma che vuol dire cantare Bella Ciao? Ma che significato ha? Naturalmente, se Gentiloni non la cantava dicevano che era un fascista del PD, no? Se la cantavano dicono che è un partigiano. Io capisco anche l'imbarazzo di Gentiloni, però quando ha visto che lo filmavano anche col telefonino doveva far finta di telefonare. Scusate, devo fare una telefonata? Si allontanava. Cioè, per uscire da una situazione del genere puoi prendere il telefonino e cominciare a far finta di parlare, ti allontani mentre fanno il video, perché sai che poi il video lo fanno vedere anche... arriva anche in Italia. Oppure non gliene fregato niente, perché lui magari è sulla stessa linea d'idea di Franceschini che è la Salvini, l'uomo più pericoloso del 2019, che siamo di fronte a una destra pericolosissima, come nei primi venti anni del secolo passato, quando errori hanno portato alla nascita del PNF, Partito Nazionale Fascista. Magari è anche lui sulla stessa linea del PD, ma molto probabilmente. Ma anche Matteo Salvini è intervenuto sul coro dei commissari e dice Complimenti a PD e 5 Stelle per la scelta di Gentiloni come rappresentante dell'Italia in Europa. Al prossimo giro canteranno anche Bandiera Rossa, poi Sanremo e Tournée Internazionale. Beh, sì. Ormai non ci stupiamo più di nulla. La prossima volta potrebbero veramente cambiare, cantare Bandiera Rossa, Trionfarea, Trallallero, Trallallà. Come dicevamo, Bella Ciao ha le sue origini partigiane, che però non sono assolutamente certe. Non si è sicuri al 100% che si tratti di un brano italiano. E questo in politica italiana viene spesso cantato, evocato come canto di resistenza. Qui la resistenza a che cosa? Lo cantano le sardine, lo cantano chiunque che vuole resistere a che cosa? Vuole resistere allo strapotere democratico del centrodestra che in questo momento gli è impedito di governare da 5 Stelle e PD che si sono uniti contro Salvini, ma più che altro che contro Salvini contro la possibilità, matematicamente quasi certa, che Salvini diventi presidente del Consiglio con il centrodestra. Quindi è diventato un canto di resistenza contro Salvini. Cioè si resistono, no? Non ti faccio andare al governo, io ti canto Bella Ciao. Questa Bella Ciao è come, sapete come Star Trek che ha lo scudo, no? Lo scudo stellare di Star Trek che viene attivato dal Capitano Kirk, ecco. Il centro-sinistra attiva lo scudo stellare di Star Trek che è Bella Ciao. Questo coro che respinge la Meloni, come se fosse, ad esempio, la Kriptonite per Superman, no? Si avvicina Salvini e sente Bella Ciao. Oppure ce n'è un altro, l'aglio per i vampiri, no? O la luce, no? Cantando Bella Ciao Salvini e la Meloni e Berlusconi, no? La luce no! Bella Ciao no! È un po' una cretinata di carattere globale questa del Bella Ciao. Ovviamente fa capire quanto è infantile gran parte della politica italiana e quanti... Allora, gli esponenti politici sono lo specchio della società. Non è che loro sono una cosa e noi siamo un'altra. Quindi in politica è un grande specchio che fa vedere cosa siamo noi, no? Ci sono i sostenitori del centro-destra, i sostenitori del centro-sinistra, i sostenitori del centro-destra di parlare di fascismo e comunismo, dicono ma che cacchio stanno dicendo, mentre il centro-sinistra continua a parlare di una lotta partigiana contro il capo del fascismo Salvini e questa destra ignorante che segue il capo come seguivano, no? Come dicevano il popolo bue che seguiva Mussolini in quanto ogni cosa che tu gli dici loro ci credono. Però, attenzione, questa cosa di fascismo-comunismo è veramente diventata ridicola. Ma ridicola, ma anche questa cosa di cantare continuamente questo Bella Ciao è veramente agghiacciante. Quindi le sardine non è che lo hanno troppo rispolverato questo Bella Ciao, lo continuano a cantare. Quando quella signora, la giornalista del giornale, presentava il libro con le 100 domande a Salvini, no? Vi ricordate? Mi sembra che si chiamava il libro Io sono Salvini. Non è un libro di Salvini, è una giornalista che ha fatto le 100 domande a Salvini e quando non gli hanno fatto presentare il libro al salone, cacciando l'editore, lei è entrata col suo libro per presentarlo e c'era un gruppetto di persone che gli cantava in faccia Bella Ciao, Bella Ciao. E diceva, ma che hanno nel... Quindi non è che è proprio rispolverato dalle sardine, è una cretinata che continuano a fare, di cantare Bella Ciao, che veramente... Il problema è che gli italiani giocano, giocano alla resistenza. Ma attenzione, chi l'ha fatta veramente? Non credo che adesso si metti... Beh, adesso i reduci sono pochissimi e sono ultra novantenni, però farebbero accapponare la pelle a quelli che veramente hanno fatto la resistenza, sentire che in Italia nel 2019 vanno a cantare Bella Ciao perché uno presenta un libro, Io sono Salvini con 100 domande, o contro il politico di destra identificato in Mussolini. Io credo che chi ha vissuto il fascismo e la resistenza inorredirebbe, ascoltando e vedendo questa sinistra che gioca ai nuovi partigiani contro i neofascisti. È veramente ridicolo, e me lo dico proprio sinceramente. Non so se vi ricordate, Michele Santoro in diretta nel 2002, no? Contro Silvio Berlusconi, Santoro cantava Bella Ciao contro il fascista Silvia Berlusconi. Avete visto il dittatore Berlusconi? Ha dichiarato guerra dal balcone... Capite le cretinate. Santoro che cantava Bella Ciao contro il dittatore Berlusconi. A distanza di quasi vent'anni, capite la sciocchezza. Santoro mi sta anche simpatico, non lo so, forse assomiglia un po' fisicamente a mio padre, non mi è mai stato antipatico. Ho sempre guardato quelle trasmissioni, che poi c'era quella ragazza antipaticissima, bionda, parlava tutta così, mamma mia... C'erano quei personaggi sinistri che aveva in trasmissione che erano agghiaccianti, però Santoro non mi è mai stato antipatico. Però che cantava in diretta TV Bella Ciao, investito da questo suo essere nuovo partigiano che contrastava questo duce cattivissimo Berlusconi, avete visto, no? Oppure quell'altro sacerdote, Don Massimo Biancalani, che cantava in chiesa Bella Ciao, ma lo cantava da solo, praticamente. C'erano circa 80-100 persone che hanno assistito alla messa, quando alla fine è finita la messa, lui ha cominciato questa panzanata, sono andati via tutti. Sono rimasti 5 persone, tra cui c'era un ultra novantenne che non capiva neanche cosa stava cantando, e lui, con queste 5 persone che si tenevano per mano, 4 più lui, cantavano Bella Ciao, e c'erano lì 10 giornalisti con telecamere, capite? La buffonata, no? Adesso il sacerdote canta Bella Ciao, e tutti lì a riprendere, e i fedeli erano andati via tutti via. Capite che questa voglia di esibizionismo pervade anche la chiesa, le suore, la suora sardina che diventa, la signora ultraottantenne che si veste da sardina e posta le foto, ed è felice di essere diventata virata, e guarda, mi hanno messo 125 mi piace, sono diventata una persona riconosciuta nella società. Capite che razza di mondo basato sulla visibilità, sulla condivisione, su quanti mi piace mi mettono? Io ho un parente che ha scoperto Facebook da poco, ossessionata dai mi piace, ma hai visto il mio post? Io che non entro neanche quasi... L'ultimo post che ho fatto in Facebook risale al 26 di gennaio, no? Invece c'è questa mia parente ossessionata, hai visto il mio post? E non gli metti mi piace? E se per caso tu gli mettevi mi piace, gli avevi fatto il regalo più grande del mondo. Capite che l'ossessione di questo mondo basato sul consumismo, sull'apparire, sull'apparenza, io sono in quanto posseggo, no? Io continuo magari a mettere su foto di dieci anni fa, quando ero in vacanza, così faccio vedere alle persone che sono sempre in viaggio quando sono foto vecchie. C'è questa mania, questa ossessione dell'apparire, del mostrare, no? Più mostrato che dato, diceva un pontefice massimo tanti anni fa. Quindi, che cantino bella ciao, cantatelo quanto e quando e dove vi pare, però che siano i commissari, rappresentanti delle istituzioni europee e non esponenti di parte, e che il canto sia avvenuto all'interno dell'aula con tanto di coreografia ufficiale dell'Unione Europea, ha mandato su tutte le furie Giorgia Meloni. Immaginatevi come se il governo di adesso, quello sui banchi del governo, non so, finito di parlare Conte due di ieri, avessero tutto intonato, bella ciao, ma vi rendete conto dell'assurdità. Interviene anche l'europarlamentare Flavio Martuscello di Forza Italia, che dice ma pensassero a lavorare che sono pagati per questo, Bonino, Frattini, Tajani, che pure sono stati i commissari europei, non lo avrebbero mai fatto, non è un caso che i commissari cantano, sono tutti socialisti, noi popolari siamo seri, è una cretinaggine del genere, non l'avremmo mai fatta. Assolutamente d'accordo con Fulvio Mantuscello. Io vi invito ad iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, è gratis, non comporta nulla, e però con questo potete partecipare nella community, tanti sondaggi e commentarli. Siamo anche su Facebook, Tele Italia Notizie, dove trovate tutti i nostri video che ci sono su YouTube, che potete commentare, condividere assolutamente con chiunque, ovunque voi vogliate, in internet e fuori da internet. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.